Un biglietto unico per viaggiare in treno, bus, corriere a tram e vaporetto, accordo regionale che dopo Treviso permette di collegare anche Padova e Venezia pure nelle linee extraurbane. E oggi siamo qui con Trenitalia, WM e ACTV per presentare questo ulteriore passo che va verso un miglioramento del servizio del trasporto pubblico locale nel Patreve, quella che è tutta la zona di Venezia, Padova e anche Treviso assolutamente c'è un forte utilizzo del trasporto pubblico locale. Qui parliamo di Venezia e di una parte della zona metropolitana ma arriviamo fino a Padova. Dal prossimo primo marzo lo si potrà acquistare direttamente dal proprio telefonino utilizzando la specifica applicazione e a breve anche attraverso i sistemi di vendita di Trenitalia, le nuove tipologie di abbonamenti mensili integrati disponibili nella versione ordinaria e per gli studenti. Credo che questa domanda di flessibilità nell'utilizzo della scelta, dell'utilizzo del mezzo da utilizzare fosse una domanda che era lì da molto tempo. Abbiamo trovato una soluzione, abbiamo concordato con Ferrovie dello Stato delle tariffe e quindi credo che abbiamo fatto un qualcosa nell'interesse dei nostri clienti e dei nostri viaggiatori. Accordo che apre la strada al sistema metropolitano con un obiettivo comune, lasciare a casa l'auto. È un risultato eccezionale ricercato dalla regione Vento da tanti anni ma con la forte spinta del sindaco metropolitano Luigi Brugnano ci siamo riusciti.